Benvenuti su Obel, signor canale! Sempre sul tubo italiano! E il Dottor Meg! E il signor Rune! E andiamo ad affettare il vecchio metallo in un nuovo episodio di... No More Heroes! Dopo la sigla! E il signor Rune! E il signor Rune! E il signor Rune! E il signor Rune! Molto bene! Nello scorso episodio percorrevamo il maniero di Death Metal! Sì! E adesso ci apprestiamo ad andargli a fare il culo! Ricarichiamo tutto, batterie e vite! Assolutamente sì! Il comando è passato in mano al signor Rune! Ah, come fa a fare questo signor Rune? Con il... Tenendo premuto Z e guardano l'intorno! Ok, ma prima me lo darà sempre in TPS! Non so cosa dire Dottore! Ok, posto a questo! Cosa cazzo? Ok... Diciamo che è un po'... È un po' di nicchia! Su certi aspetti questo... Su ogni gioco! E non ha nulla a che vedere con... Il precedente! Il precedente era la spettacolare! Che era? Killer Seven! Killer Seven! Quattro bellissimo quando ti dicono... Pagano con la vita di molti... Quando hai la capacità di prendere la vita per te stesso... Questo è vero... Quella è vera... Hey, sai che paradisi è, certo? Paradisi. Questo è paradisi. Il posto dove i sogni sono diventati. Beh, hai avuto il tuo sogno, figlio. Quando si wake up! Questo non è paradisi. Allora, allora cosa è? Un posto di morire. Ha, mi piacere che tu e io siamo nella stessa page qui. Eh, Cristo beato. Ah, noi non abbiamo un cazzo in un problema. E niente, lui c'ha l'arma più figa. Praticamente lui c'ha... non so neanche come definirla. Eccolo sia, non è spessato. Eccolo sia, non so neanche come... Un po' è un po' disturbante. Un po' disturbante. Un po' disturbante. Un po' disturbante. Eh ok, al momento il signor Luna è in vantaggio Ah, può farglielo un po' l'hippocrista Beh, questa è la famosa mossa benificata Può essere La sua pin katana è un po' scarso Però può anche evitare di caricare e andare laggiando Ok, lo scarichiamo Per post, no cazzo E adesso? Quanti ce ne sono? Eh, adesso ce ne dovrà essere l'unico che c'ha La ghi tagliato Allora, direi che non è questo Ok, questa è una coppia, no? Ok, deve essere lui Però sta colpendola Vabbè, io le ammazzo tutti che sono bella Gli altri sono anche meno Se vogliamo meno abilire, parre però Parre però Parre però Ok, va bene? Bastardo Ok, va bene Con il colpo caricato si infrango la difesa, vero? Eh, sa che non me lo ricordo No, mi sa che devo ammazzare con l'altro Nooo Si, si No dejo a fare il colpo finale Perchè? E' tosto perchè? Si Eccolo 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 Vabbè Ecco Eccolo Eccolo Ecco Eccolo 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 Ecco Ecco Eccolo Ecco Ecco Mi ha fatto saltare anche le braccia Ecco Sto cazzo! E niente E qui si perde tantissimo di quello che è lo stile del gioco Attenzione perché queste caviglie Va bene Ci sono queste grafiche all gen che a me fanno sbroccare a bestia Ah la sua bin katana è finita Per la war ricaricare E che cazzo? Oh No Allora non credo che si possa fare no Perché adesso siamo in un in un intermezzo Ok Quindi comunque per interagire col mondo dobbiamo sempre andare sui sui punti Esatto Nice kill Travis I didn't think you had it in you It was rather Exciting Congratulations Congratulations You are now ranked 10th 10th huh? What? Do I get anything? Hmm How about some cash? That should help you pay the bills I'm not feeling the sense of accomplishment that I should make So I just gotta do this a few more times That's right If you so choose Yes And you will keep your promise? There is nothing the association cannot do And if I refuse As the 10th ranked assassin You are now a target for those who want to replace you Anytime Anywhere Number 11 could be right around the corner Ready to put a knife in your eye So what you're telling me is that I gotta continue fighting There's no way out of this You set me up bitch Quit your bitch and get with the program There's only one road out of here No turning back Ok how about this? If I become number one Will you do it with me? Hmm Maybe Maybe not Come on Just once Will you lose life If we lose life Contro 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 Il Foo Death Metal Non Sappiamo chi sia Il numero Il numero Sarebe carino Saperi chi In realtà Quello si scopre Nel All'inizio Di No Moriros 2 Ah ok Però Adesso Non Stiamo lì a parlarne E qui siamo nella casa Di Travis Di Travis Di Travis Travis Touchdown Se non vale vero Travis Touchdown E qui siamo Dicevo all'interno dell'appartamento Dove possiamo sbrigare diverse cose La cosa più imparante di tutte è Ascoltare I messaggi della segreteria Am I ready? Anytime Gotcha Sembra giusto Buè Perfetto Quindi un po' taku Un po' freak Un po' scarto della società Un po' psicopatico Un po' psicopatico Un po' psicopatico E qui ci sono tutte le varie cose Vediamo Armadio Che ci permette di cambiare gli abiti Qualora noi ne abbiamo Non so se No Se abbiamo solo questo Abbiamo solo questo Abbiamo solo questo Cose Solo questi Questi E sono questi Poi Alle volte ci sono delle chicche Per esempio Nel cassetto cosa troviamo? La nostra unica katana La nostra unica katana Dove possiamo vedere le vide musicali di Genki E anche no E poi il frigorifero Dove credo possiamo ricaricare la vita In questo caso siamo pieni Quindi Esatto Ah ok Quindi se Tra parentesi Non so se l'avete notato Il cuore è passato di livello Si Poi c'è Genie Ok ma Il gatto Ok E beh Fondamentale questo E certo Anche perché cambia posizione Genie Non è che A differenza di bambini Che non movimentano le ginocchia In altre serie Questo Esatto Questo ha una certa mobilità Benché abbia molti meno pixel Quindi E' un po' un Ramon E poi sono le figurine Che ci permette di vedere Quelle che abbiamo conquistato Ma quindi sono figurine di un Di maschere del lusatore Ok Allora Riteniamo un attimo la mappa Perché non me la ricordo Ah perfetto Ah si chiama Santa Destroy Si Allora qui abbiamo il burger Ah L'ATM L'Hotel Nomor Heroes Suplex Pizza Promontori Ironclaw Body Slam Beach Che per la palestra Liceo Santa Distro Ma vabbè Adesso andiamo a vederli comunque Diciamo che è un gioco Non so se è tornato abbastanza tamarro Ma no Un po' che un pelo tamarro Ma no E andiamo a vedere E cosa dovremmo andare a fare In questo momento Ah adesso dobbiamo Prendere soldi Ok Soldi che ci servono Per poter Ma adesso ce lo diranno Ne sono abbastanza sicuro E infatti Allora controlliamo che non ci sia niente da prendere qua in giro No assolutamente E qui c'è questa limousine bianca Ci sarà dentro Silvia e Cristel Noi pensiamo di sì Eh The next fight has been arranged You don't have a lot of time So I'll just tell you what you need to know The ninth ranked assassin is currently Doctor Peace A doctor? Actually a detective A dirty and unscrupulous detective With plenty of dark secrets about him Illegal investigations, illicit sales, black marketing He is your one stop shop for marketing illegal goods And on top of that he is a trained assassin He's been doing some work for the mafia And before you know it He's up there ranked ninth on the list To be frank he's good You won't stand a chance against him You're as good as dead What's it going to be cowboy? Put me in coach All right Please transfer 150,000 LB dollars What? 150,000 LBs? Your entry fee? My overhead costs? Don't tell me that you were not expecting so many zeros on that price Or that I am ripping you off or some shit We have an elite staff in the thousands Personally, I think it's a bargain Okay, I gotcha But you really think I got that kind of dough on me? What the hell am I supposed to do? You are supposed to do your job You've been hired to kill someone So just do it and quit your whining Plus on the job training would be good for you If you're interested I can introduce you to an agent An advertisement agency But really they're erasers I'll tell you where it is later I'm running late for my facial I'll catch up later, okay? What? No! Oh! You didn't see No! 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 It's so hard to play Oh perfetto ah si? possiamo già andare alla prossima sfida? ma allora andiamo alla prossima sfida abbiamo una qui è per per avere gli incarichi esatto allora in qualche modo dovremo anche e infatti chiamare il nostro amico che ti porta la moto allora visto che dicevamo abbiamo la possibilità di farlo io andrei subito allora a pagare fanculo era dritto vero? verità cosa? ah no qua a sinistra perfetto e beh è simulativo come gioco assolutamente si la guida è veramente simulativa allora come si scende dalla moto eh B provi B ah c'è anche la visuale in prima persona ah no frecce in giù ok posto ma cosa? ma aveva detto che se li avevo vabbè e allora andiamo abbiamo scusi entri un attimo nel menu vediamo quanti soldi abbiamo in effetti 118.000 elvi ok dobbiamo arrivare a 150.000 quindi dobbiamo fare i lavori e va bene e allora facciamoli questi lavoretti mannaggia loro mannaggia loro allora ok prendiamo sull'assassinio a livello più alto noi offriamo una russola a quelli che hanno dimostrato di avere voglia di lavorare ma vaffanculo quindi niente la nostra prima la nostra prima prova come assassini a pagamento non è andata troppo bene ma quindi dobbiamo lavorare noi dobbiamo lavorare gratis oppure proprio che non ci vogliano ok quindi c'era un video di col... di scollocamento ok ok va bene quindi andiamo di là beh è elettrizzante questo gioco la parte free roaming di questo gioco è qualcosa di... a me in realtà la parte free roaming di questo gioco piaceva parecchio e infatti nel secondo in cui questa parte non c'è se ne sente molto la mancanza ti dico la verità scusa scusa ha ucciso più persone in moto che in effetti eh va bene ops aia si ma tanto sono arrivato no? no eccoci qua centro per l'impiego quanto è simulativo sto gioco vabbè eeeh centro per l'impiego proprio come nella vita reale abbiamo exhibit come ci si è finito qui mezza colzetta è qui che si radunano le mezze calze di conseguenza ci rientri pure tu beh motivatore comunque certo facciamo così ti insegno qualche trucchetto tutti gli uomini veri sono tanti mezze calzette in pratica essere mezze calze è il trampolino per diventare uomini beh quindi alla fine è un motivatore la tua vita non sarà più la stessa se lavorerai qui e ti dico un'altra cosa ancora come fanno le mezze calze a diventare uomini? è facile si spaccano il culo di lavoro fino a sputtare sangue e poi riprendono di nuovo a spaccarsi il culo perfetto vuoi essere un uomo vero? ma guarda visto le premesse e allora lavoro ma lavoro duro devi farti la gavetta per sopravvivere in questa città ti troverò io altro lavoro da fare se stavolta ti comporterei bene il lavoro è affisso in bacheca vediamo sta bacheca raccolta del cocco prendi ammazzate le palle e raccogli le noci di cocco a dire bello eh e beh cos'è che ha detto? non l'ho capito va bene allora trovo il cliente va bene moto via ha buttato giù le noci di cocco quindi le palme e quindi farà fatica bella oppure è tutto più semplice proprio perchè le ha buttate giù eh ecco eccoci ahah è sempre lui però non so se ha notato ahah il cocco vale più della vita umana perfetto il cocco dio perfetto usa gli attacchi multipli contro le palme per far cascare le voci 3 2 1 quindi sono mini giochi arcade immagino a tempo esatto ops va bene va bene ah devo prenderli così ah devo prenderli così bene chi se lo sarebbe mai immaginato tra l'altro quanto cazzo pesa questo cocco no ma infatti alcune telecamere sono qualcosa di odioso ok questo mi sembra un po' acerbo eh però ah di realtà non è solo dio un'economia basata sui cocchi sui cocchi sui cocchi L'avrei anche preso eh, dico la verità. Ma tecnicamente se lui sbucciava i cocchi con la bim katana, dopo... Ne era Mei, ma dopo se rovini la pianta e dopo non mette giù... No, ma sbucciava il cocco verde, dentro c'ha il cocco marrone che tutti noi conosciamo. Sì. Eh, quindi io... Ok. Questa mi pare più buona. Mmm, buono il cocco. Sono lavori di alto intelletto che il signor Luna. Che noi non possiamo capire. Tra l'altro a noi nessuno ci ha mai chiesto di prendere a pugni gli alberi per raccogliere della frutta, quindi... No. Eventualmente andrà a cerdo a seconda delle macchine, ma non... Esatto. E' raccogliere a pugni. Lei, signor Luna, come nello scorso episodio, mischia la vita vera... Non so di che cosa sta parlando. Ah, qui c'era... Questo l'aveva missato all'inizio. Tra l'altro ne ha fatto cadere solo una. Va bene. Tra l'altro lui ci parla e parlandoci si fa perdere tempo. Bastardo. Vai, cocco. Va bene. Va bene. 10 cocchi, mi sa che avevamo guadagnato così 20.000. Vale. Riusciamo a prendere un altro? No. Beh, però mi sembra che sia stato abbastanza produttivo. Vediamo. 20.000. Pivello or, signor Luna. Ehi, tu Pivello, ho un altro lavoro per te. Cosa di leggermente underground. Magari lavoro è lavoro. Ho mandato un biglietto di presentazione al mio socio. Bastardo per diventare un vero uomo e lunghi il teo di stacca e scordo che non hai le palme. Perfetto. Se non hai le palme. Ah, se non hai le palme. Perfetto. Ah, quindi adesso possiamo andare a... Con la lettera di presentazione da raccolta cocchi possiamo andare alla Key Entertainment. Mi pare di capire, giusto? Ma io direi che questo lo vedremo solamente in un altro episodio. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi mettiamo a commentare e scrivervi se ancora non l'avete fatto. Fare tanto, 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 tanto. L'amore. A difidare delle persone che si chiamano Silvia. A ricordare che il cocco è Dio. Esatto. E noi ci vediamo sempre e soltanto su... Obelix, il miglior canale, sul tubo italiano. Il canale che con le voci vai tanto in là. Ciao. Ciao. Tutti su Obelix, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meglio, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, l'ha detto mia madre. Iscriviti. Cioè, è una fonte. Ah, vabbè. È una fonte. Cioè, è una fonte. Cioè, è una fonte. Cioè, è una fonte. Cioè, è una fonte.